L'esilio è finito questo pomeriggio alle ore 15 e 30 quando il furgone blindato proveniente da Firenze è arrivato in piazza grande a Gubbio. Ad accompagnarle a casa insieme agli addetti al trasporto la direttrice del palazzo ducale Paola Mercurelli Salari che da piazza grande attraverso vie e scale le ha poi condotte in quella che sarà la loro nuova casa palazzo ducale. Sono le otto tavole del 400 opera del senese Taddeo di Bartolo parti del politico di San Domenico di Gubbio che nel 1843 fu smembrato immettendo le sue parti nel mercato antiquario. Quattro tavole le più grandi finirono negli Stati Uniti, otto quelle che oggi sono tornate a Gubbio passarono di mano in mano attraverso i secoli finendo battute all'asta pochi mesi fa dalla casa Pandolfini di Firenze. A rintracciarle e ad acquistarle la fondazione Cassa di Risparmio di Perugia sulla quale a seguire il Ministero dei Beni Culturali ha esercitato il diritto di prelazione riacquistandole a 150 mila euro dalla fondazione ed assegnandole al Palazzo Ducale di Gubbio. In attesa di una collocazione specifica oggi sono state accolte nel Salone d'Onore dell'edificio Montefeltresco dove sono state aperte le casse che le contenevano e sono state ispezionate dal direttore del museo che ne ha costatato l'ottimo stato di conservazione. Nelle immagini sono raffigurati nella tipica raffinatezza quattrocentesca senese, Santo Stefano, San Pietro Martire, San Tommaso d'Aquino, gli evangelisti San Luca e San Matteo, il beato Ambrogio San Sedoni e due santi vescovi non meglio definiti. Si tratta di una grande riappropriazione per la città di una fetta importante del suo patrimonio storico ed artistico. Si è impossibile riavere le pale centrali, in particolare la Madonna con il bambino dell'Harvard University Museum, un santo vescovo e Santa Caterina d'Alessandria del New Orleans Museum, San Giovanni Battista e San Giacomo Maggiore del Memphis Museum. Tuttavia il ritorno di questo corpus risarcisce in parte della perdita e contribuisce a fare del Palazzo Ducale, già un museo di se stesso, un contenitore perfetto per collezioni d'arte che da qui in avanti potranno aspirare a crescere. Oggi è una vera giornata di festa per Gubbio perché si riappropria di un pezzetto del suo patrimonio storico-artistico, importantissimo questo fatto per una città che nel corso dei secoli è stata depavorata dai suoi gioielli più importanti. Sono otto tavolette che provengono da un politico realizzato per la chiesa di San Domenico intorno al 1418 dal pittore senese Taddeo di Bartolo. Sono opere di grandissima qualità che vengono restituite alla città grazie ad un'acquisizione dello Stato. Ci rende orgogliosi il fatto che lo Stato abbia voluto esercitare la prelazione per un museo come il Palazzo Ducale di Gubbio in un momento in cui si riprende la politica degli acquisti e i primi due acquisti che vengono fatti dopo la riforma sono per Gubbio appunto e per gli uffizi. Quindi essere stati avvicinati agli uffizi ci rende particolarmente orgogliosi ma quello che va oggi festeggiato è proprio il ritorno alla pubblica fruizione di un patrimonio che è condiviso di un patrimonio di tutti che quanto prima esporremo non appena avremo messo il Palazzo nelle condizioni di poter ospitare degnamente le otto tavolette. Queste tavolette sono importanti anche per la storia di Palazzo Ducale pur non venendo direttamente da qui perché comunque documentano l'importante momento della pittura tardogotica a Gubbio. Siamo all'inizio della signoria praticamente dei Montefeltro e quindi ci introducono anche nel clima culturale della famiglia Montefeltro che poi è quella che fece costruire il palazzo in cui ci troviamo.